La gamma media, le CarbTap, che sono state sviluppate espressamente per il mercato continentale, in particolare italiano, sono delle coales di ottimo livello, ma con un ottimo prezzo anche, quindi possono essere usate per chi vuole pasturare in maniera pesante o per pescare in acque che sono sottoposte a poca pressione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!